Jacopone da Todi è uno dei massimi esponenti della poesia religiosa del XIII secolo di lui abbiamo pochissime notizie sappiamo che nasce a Todi tra il 1230 e il 1236 da una nobile famiglia ed ebbe anche una solida formazione culturale episodio fondamentale e purtroppo molto triste è quello del 1268 secondo la leggenda infatti il crollo di un pavimento avvenuto durante una festa porta alla morte della moglie sotto le vesti della moglie trova infatti un cilicio che ha un ruvido abito di penitenza questo causa in lui la conversione trascorre quindi dieci anni in penitenza e addirittura entra nel 1278 all'interno dell'ordine francescano e inizia qui una dura polemica contro la corruzione della chiesa suscita in lui grande speranza la figura di Pietro da Morrone che infatti diventerà papa nel 1294 con il nome di Celestino V tuttavia quest'ultimo abdica il trono papale passa poi a Bonifacio V sono nomi ovviamente che già ci portano a pensare a Dante colui che di Viltade fece il grande rifiuto probabilmente questo verso dantesco è riferito proprio a Celestino V il buon Jacopone firma insieme ad altri personaggi il manifesto di lunghezza era un testo dove si negava alla validità dell'elezione di Bonifacio a seguito di questa firma Jacopone viene scomunicato inizia una vera e propria guerra la città di Palestrina infatti in cui si erano accolti questi ribelli subisce un assedio e cade nel 1298 Jacopone fu imprigionato e ovviamente soffrì particolarmente la scomunica tanto che chiese invocò al papa proprio questa la revoca della scomunica alla fine questa revoca fu concessa dal successore di Bonifacio VIII Benedetto XI in fin di vita si ritira nel convento di San Lorenzo di Collazione dove muore nel 1306 le laude sicuramente attribuibili a Jacopone sono 92 cos'è una lauda? è un componimento di carattere religioso sono lodi che si rivolgevano alla divinità e venivano cantate spesso in sequenze ritmate in queste lodi cosa troviamo? ovviamente uno scontro tra forze opposte vizie virtù, inferno paradiso il mondo è Dio ed è proprio il mondo oggetto di polemica e di totale rifiuto da parte di Jacopone ma egli manifesta il suo ripudio del mondo sempre attraverso il dialogo molte laude hanno infatti la struttura del contrasto tra più voci la voce divina che scuote l'anima spesso si alternano rimproveri la ricerca dell'amore porta quindi all'umiliazione di sé Jacopone sceglie addirittura la povertà la malattia rende se stesso oggetto di scherno e di beffa nella laude o signor per cortesia per esempio proprio porta contro di sé una serie di orribili malattie il poeta invoca per sé proprio una serie di mortificazioni estreme della carne è il mondo stesso quindi a diventare l'obiettivo primario di questa deprecazione il poeta Jacopone si rivela scrittore tutt'altro che incolto anzi la matrice letteraria è molto forte non solo conosce testi religiosi i salmi ovviamente la Bibbia ma anche possiamo trovare all'interno dei suoi test alcuni topoi della letteratura contemporanea pertanto la letteratura cortese addirittura nel pianto della Madonna che ha per argomento la passione di Cristo possiamo trovare alcuni momenti di affinità con lo stil novo che possiamo vedere quando soprattutto cioè soprattutto nella delineazione di alcuni tratti psicologici dei personaggi il punto d'arrivo ricordiamolo è l'esperienza mistica la poesia di Jacopone deve definire la verità assoluta che è l'amore divino è la verità divina non è un caso che una delle parole più ricorrenti all'interno della sua opera sia quella di esmesuranza cioè negazione di ogni limite questa è una ricerca di un assoluto della luce assoluta dell'eterno pertanto la sua produzione poetica sembra allontanarsi dal principio aristotelico della misura non esiste qua un equilibrio una ragione è uno slancio verso un valore assoluto uno squilibrio totale ed è infatti come abbiamo già detto la laude si regge sullo scontro tra opposte tensioni questo amore insegue dappertutto l'anima umana e si umilia fino a scendere in questo mondo addirittura l'incarnazione di Cristo diventa proprio uno scandalo perché la grandezza di Dio si abbassa all'uomo alla vita terrena ed è qui appunto che nasce anche il disperazio copone per il corpo tuttavia in queste nell'incarnazione di Cristo abbiamo anche dei passi delicati la poesia raggiunge proprio dei momenti di affettuosa trepidazione ed è il cosetto pianto della Madonna che dicevamo prima il linguaggio delle laudi è interessante ovviamente stiamo parlando di arcaico dialetto umbro quindi una scelta anche interessante un linguaggio che si arricchisce di latinismi ma anche di invenzioni lessicali ovviamente Giacopone inserisce dimostra la sua conoscenza del linguaggio biblico e anche di una serie di elementi realistici che portano anche a creare un po' di stridora all'interno delle sue opere Giacopone inserisce Giacopone inserisce Giacopone inserisce Giacopone inserisce Giacopone inserisce